Hanno annunciato nel corso di una trasmissione televisiva che entro la fine del mese presenteranno la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco di Fevara, Rosario Manganella. Parliamo dei consiglieri comunali Giovanni Bennardo per i riformisti socialisti, Rino Scalia per articolo 4 e Antonio Palumbo per rifondazione comunista. I tre membri di Aula Falcone e Borsellino hanno ribadito come questa esperienza di Manganella sindaco è del tutto fallimentare. Secondo quanto emerso nel corso della trasmissione, a firmare la mozione di sfiducia al sindaco Manganella dovrebbero essere in nove, ovvero Broccia, Scalia e Lupo di articolo 4, il gruppo Favara Socialisti Riformisti, formato da Bennardo, Dalli Cardillo e Sgarito, il capogruppo dell'oramai ex PDL, Vella, Ceresi di Ripensare Favara e Palumbo di Rifondazione Comunista. A loro si potrebbero aggiungere Bellavia, Fallea, Grova e Crapanzano, arrivando a 13, numero che consentirebbe di poterla presentare. Poi ovviamente, affinché la mozione abbia validità, deve ottenere almeno 20 voti favorevoli in consiglio comunale. Intanto c'è chi definisce questa mozione una bufala, non crede neanche che avranno i numeri per presentarla. Parliamo di Davide Romeo, del gruppo Prometeo. Quindi, per quest'ultimo, i tre consiglieri comunali, Bennardo, Scalia e Palumbo, che ci hanno messo la faccia nell'annunciare la presentazione della mozione, sono come Pinocchio. Si sarebbero inventati la scusa della mozione di sfiducia per nascondere la loro incapacità di formulare una controidea al bilancio di previsione 2013 e pluriennale. Se così fosse, crediamo, non avrebbero preso uno spazio in TV per annunciarlo alla città. Che figura ci farebbero se poi non presentassero nemmeno la mozione? Insomma, a Favara, dopo la trasmissione andata in onda questo fine settimana, la politica sembra essersi svegliata dal lungo letargo. Adesso, a distanza di due anni e mezzo dalle elezioni, c'è chi ha preso coscienza che questa esperienza amministrativa deve essere chiusa anticipatamente per il bene della città. Qualunque sia la sorte della possibile presentazione della mozione di sfiducia, ogni singolo consigliere comunale si assumerà la propria responsabilità davanti alla città e ai suoi elettori.